Fervono i preparativi a Borgo Tossignano per la Sagra di San Bartolomeo che si svolgerà il prossimo 24 agosto. Decine e decine di volontari sono già all'opera per garantire uno spettacolo senza pari. Concerti, mercatini, stand gastronomici e le tradizionali fontane sul Santerno saranno la ricetta per questa sagra giunta alla sua trentesima edizione. Grazie a tutti.